a riechime youtubers 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 per la quinta parte della super fantastiliarda opening anzi big opening apriamo gli altri dieci e ribadisco parti fortunate per me e ci sono state anche alcune parti fortunate per voi quindi pronti a tutto sul canale di pokeshiny tutto può succedere vabbè mi sembrava la marcuzzi tutto può succedere al grande fratello allora jolteon lampent crocoroc cacnea utut starly cosa ci sarà qui ragazzi qua c'è un'altra cosa fighissima secondo me dratini nidoran maschio e latios i ex full art ragazzi guardate lo splendore di questa carta l'atios i ex full art ragazzi io non ho parole non ho parole perché veramente penso che farò degli altri set anche altre big opening perché se questa è la fortuna devo dire che conviene fare il big opening e come dico io bisogna essere generosi di nuovo questo bishart vanillish zuelus cinciu sunday niso litwig voltorb keglon reverse raro reverse bellissimo e nido king raro proseguiamo ragazzi perché vediamo un po' cosa ci riserva ancora questo set città congelata lampent dragonair nidoran maschio monkey cacnea starly yamask ivy reverse e l'ifion raro va bene uguale codice trio scuro metang miltank ivy dratini wupper beldum poniard trico reverse ed executor raro oggi mi viene di aprire da sotto i pacchetti e non so perché medaglia del team plasma crocoroc staravia snizzle litwig voltorb maquita poniard starapto raro e king draolo grande questo mi mancava quindi mi mancava hai dragon dove sei io sto lottando per avere re quaza full art di stirpe dei draghi e qual è la oro che non mi esce in tutti questi pacchetti un oro drago ispion nocturne kakuna deino vanillite primate orsi yamask time polo reverse e king draolo e va bene lo mettiamo nelle carte ripetute viking draolo un dietro l'altro niente dragon viene a far perdere la pazienza come il suo compare rei quaza vaporeon staravia sidra nidoran maschio rattata sandail yamask litwig dratini reverts e cofagricus raro qua c'è qualcos'altro vediamo un po' di cosa si tratta cryogonal è un ice pack zuelus metang weedle ivy trico wupper voltorb ruggiata della vita e cactur raro ruggiata della vita l'abbiamo già trovato anche prima infatti ruggiata della vita è quello che si trova più facilmente dei due assi tattici ragazzi non vedete quanto sandail ma è impressionante c'è su non so quanti pacchetti ho aperto fino ad ora la metà iniziano sempre con questa carta ma è impressionante medaglia del team plasma noctol kakuna sandail snizzle litwig voltorb maquita beldum reverse e quag sai raro ultimo pacchetto è sempre con abzol terminiamo casualmente codice codice energia plasma dragonair palpitod time pole nidoran femmina prime ape orzi deino paciriso reverse e se smitoad raro ragazzi ci vediamo dopo per la sesta parte bye bye ciao